VACANZE FINITE Con Criaco e Statella sulle ali, l'attacco sarà retto da Bachelet e Gambino. Dunque, il Cosenza parte con un profilo basso e la giusta concentrazione che servirà a preparare questo precampionato. Il Catanzaro invece punta su un ritiro a Porta Fortuna, ma per dirlo bisognerà aspettare la fine del campionato. Certo è che il ritiro a Chiaravalle rievoca vecchi ricordi. Si tratta delle stagioni 2002-2003 e 2003-2004. Nel primo caso i giallorossi festeggiarono la promozione in seguito al ripescaggio. Nel campionato successivo il ritorno delle Aquile tra i cadetti a distanza di 14 anni. Ma quello che conta ora per il Catanzaro è guardare al futuro. Sarà un precampionato lungo ed impegnativo, tanto per i giocatori quanto per lo staff tecnico che dovrà amalgamare un organico completamente rinnovato rispetto alla passata stagione. Da Vibo Valencia per la Cinews24